Ben trovati all'appuntamento con dentro il consiglio, il nostro settimanale che si porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Ed ecco per questa puntata quali sono i titoli degli argomenti che affronteremo. Parleremo in apertura della programmazione europea 2021-2027, sono arrivate le risoluzioni al voto e poi il bilancio consultivo 2020 del diritto allo studio e Foiano Book Festival dal 5 al 21 novembre, c'è questo grande appuntamento a Foiano della Chiara. Per quanto riguarda la programmazione europea 2021-2027, a conclusione del dibattito che si è tenuto proprio durante l'ultima seduta d'Aula, l'Aula ha approvato a maggioranza tre proposte di risoluzione. Una del Partito Democratico con il voto favorevole della PD, Italia Viva e Movimento 5 Stelle, è stato accolto un emendamento del Movimento 5 Stelle, una di Italia Viva con il voto favorevole di PD e Italia Viva appunto e una del Movimento 5 Stelle con voto favorevole PD, Movimento 5 Stelle. È proprio il capogruppo del Partito Democratico, Vincenzo Ceccarelli, che ha annunciato il voto favorevole del PD anche sulle proposte di risoluzione di Italia Viva e del Movimento 5 Stelle. Ma ascoltiamo di che cosa si tratta, partendo proprio da Vincenzo Ceccarelli. Mi sembra un argomento molto importante ed è la conclusione di un dibattito che è iniziato nella seduta precedente, ma nel quale si danno anche indirizzi puntuali, almeno da parte del nostro gruppo, nei confronti del Presidente e della Giunta, per cercare di gestire e di spendere al meglio i fondi strutturali europei. Sono fonti che ammonteranno grossomodo a 2 miliardi e mezzo, ma soprattutto che si aggiungono a quelli del PNRR, che sapremo catturare, e ai fondi di sviluppo e coesione. Credo che queste tre opportunità rappresentino veramente un'occasione importantissima per la nostra Regione, per migliorare il nostro sviluppo, per andare verso uno sviluppo sostenibile e soprattutto anche per cercare di riallineare quelle che sono le nostre tre Toscane, quella metropolitana, che è la più dinamica, quella che ha resistito meglio alla crisi, che sa ripartire per prima, con la Toscana delle aree interne e con la Toscana della costa, che sono invece territori che hanno dimostrato maggiore fragilità, che hanno minori opportunità di servizi, che hanno minore opportunità di lavoro. Ecco, credo che spendere bene queste risorse possa invece rappresentare l'occasione per riallineare le performance di tutti i nostri territori, per andare verso una Toscana che sia improntata ad uno sviluppo sostenibile, che sia improntata ad un'economia più ecologica, che sia improntata ad una maggiore digitalizzazione, quindi la presenza della banda larga in tutti i nostri territori, con quello che questo comporta per quanto riguarda la possibilità di telemedicina, quindi di equità di accesso alle cure, per quanto riguarda le esigenze delle imprese, dei singoli cittadini, per quanto riguarda la possibilità di studiare a distanza e quindi di affermare le pari opportunità sia di genere fra uomo e donna, sia fra territori. Noi crediamo che per far questo occorra coordinare molto bene gli interventi, che tra gli obiettivi delle semissioni del PNRR e gli obiettivi dei fondi strutturali spesso si sovrappongono, quindi mettere le risorse nei punti giusti, facendo progetti giusti, cercando di coprire tutte le esigenze che i nostri territori e le nostre comunità hanno. Credo che oltre a questo occorra, come noi abbiamo già richiesto alla Giunta, costituire una unità di missione che possa supportare, nell'ambito delle strategie e della progettazione, anche gli enti territoriali, soprattutto quelli più piccoli, quelli che hanno più bisogno di essere supportati per lavorare insieme, costituire un fondo per la progettazione, per dare loro l'opportunità di poter fare progetti per partecipare ai bandi che assegneranno i fondi del PNRR. Finalmente, dopo tre settimane, siamo riusciti a ritrovare il Presidente per concludere questa importantissima discussione sui destini dei fondi strutturali europei. La buona notizia è che la Toscana avrà circa 300 milioni in più per il settennio che ci aspetta. La cattiva notizia è che si continuano a fare grandi libri con dichiarazioni di intenti molto generiche, ma non si finalizza questo fiume di denaro. Come Fratelli d'Italia abbiamo presentato una proposta di risoluzione per chiedere che la Regione destini almeno il 70% delle risorse che arriveranno direttamente alle imprese, perché solo chi produce, solo chi investe, solo gli imprenditori possono aumentare la ricchezza del nostro Paese e della nostra Regione e ridistribuirla. E non si capisce come mai, prima della pandemia, la Toscana ha distribuito oltre il 70% delle risorse alle imprese, mentre in questo piano gli vorrebbe riservare solo il 50%. Noi chiediamo di tornare alla media del 70% perché, ripetiamo, solo attraverso le imprese può rilanciarsi il destino della Toscana. Abbiamo una risoluzione importante, un momento di discussione per i prossimi sette anni, la certezza delle risorse comunitarie dei tre programmi di sviluppo della nostra Regione. È entrata nel vivo la programmazione del prossimo sette annate e come tale abbiamo chiesto maggiori interventi a favore dello sviluppo delle infrastrutture, della connettività, della rivoluzione dell'economia circolare e le opportunità sociali di tenuta del territorio, attività di formazione, alternanza scuola-lavoro, ma soprattutto un grande investimento sull'opportunità per i giovani, per renderli partecipi del processo lavorativo e le opportunità anche per le aree interne di trovare compensato quel gap enorme che c'è tra le aree urbane e il territorio periferico. Abbiamo sottolineato sette punti per quanto ci riguarda rispetto alle priorità e condiviso la strategia dei prossimi sette anni che il Presidente Gianni ha presentato all'Aula. Quindi ci troverà protagonisti a sostegno di queste misure che però devono andare nella direzione dello sviluppo infrastrutturale, economico e soprattutto per l'occupazione. Queste sono risorse certe. Ovviamente siamo tutti attratti dalla discussione del PNRR, quella è una discussione che sta iniziando, bene il percorso di concertazione, ma queste sono risorse che già abbiamo in bilancio e come tale è corretto spendere e spendere bene. Siamo di fronte a una sfida, come ho detto più volte, che è assolutamente importante e cruciale in questo momento storico. È chiaro che dobbiamo saper spendere le risorse bene, ma dobbiamo anche saperlo fare in sinergia tra i fondi strutturali e quelli del PNRR. Per noi in questo momento le priorità sono chiare, economia, lavoro, formazione, anche perché se riusciamo ad intervenire in modo capillare e mirato in questi settori sicuramente ne faremo un volano per la ripresa e soprattutto sarà importante per far sì che questa regione ricominci a crescere e soprattutto affinché in questa regione si cominci a ridimensionare il termine delle disuguaglianze sociali, perché la vera emergenza è anche l'emergenza della povertà. Ci sono dati veramente allarmanti. Dobbiamo far sì che si crei un sistema virtuoso tra regione, governo, ma anche e soprattutto con il coinvolgimento degli enti locali. In questo senso la cabina di regia, che finalmente è partita e che noi auspicavamo da tempo, da almeno sei mesi, sembra che prenda le mosse. Ci saranno degli incontri che coinvolgeranno non solo gli amministratori locali, ma anche le associazioni. E questo è sicuramente un dato positivo. Ci spiace che su alcuni temi che a noi stavano a cuore e che hanno avuto ad oggetto delle risoluzioni che abbiamo portato in Consiglio regionale, che riguardavano incentivi alle aziende che mirassero a effettuare una formazione qualificata, così come incentivi per quelle aziende che presentavano progetti in materia di sicurezza sul lavoro, così come anche un tema importante che poteva essere il legare nuovi investimenti e quindi il creare una sinergia tra nuove industrie che magari avessero intenzione di investire in territori caratterizzati da forti presenze di aree industriali dismesse, ecco, su queste proposte ci sia stata una sostanziale bocciatura. Io credo che invece siano temi importanti sui quali auspico che il Consiglio regionale potrà ritornare. Noi dobbiamo mettere in condizioni le aziende che vogliono investire e che vogliono lavorare in Toscana di avere strumenti efficaci e mirati. È arrivato un sì dall'Aula del Palazzo del Pegaso con 20 voti a favore, 11 contrari al bilancio consuntivo 2020 dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario. Nel corso dell'illustrazione la Presidente della Commissione di istruzione, formazione e beni e attività culturali Cristina Giacchi del Partito Democratico dopo aver ricordato come il 2020 sia stato segnato dall'emergenza legata alla pandemia con conseguente dispendio di risorse per i protocolli di sicurezza ha parlato della Toscana come una delle poche regioni d'Italia che riesce a garantire a tutti i richiedenti le borse di studio. L'atto della Commissione Quinta in Consiglio è stata la presentazione dell'approvazione del bilancio dell'Azienda regionale per il diritto allo studio. Quest'azienda ha affrontato un tempo difficile con la pandemia perché le case per gli studenti sono rimaste aperte in funzione nonostante appunto la grande difficoltà. Molti studenti hanno fatto il loro periodo di lockdown dentro le case dello studente. Questo ha generato comunque una virtuosità nel punto di riferimento che le case per lo studente rappresentano per tutti gli studenti universitari toscani. Chiaramente la mensa non ha avuto meno costi ma comunque le aziende hanno dovuto affrontare il grande tema delle sanificazioni e della predisposizione dei protocolli di sicurezza. Abbiamo approvato il bilancio con alcune raccomandazioni al Consiglio del DSU, dell'Azienda per il diritto allo studio dando indicazioni per un investimento fondamentale sulla mensa di Siena, dell'Università di Siena un immobile che era chiuso e che aveva bisogno di interventi e ha bisogno di essere riaperto come servizio all'Università di Siena e poi abbiamo dato indicazioni di continuare nell'opera di miglioria organizzativa per far fronte a un'ottimizzazione della spesa che ci consenta di rispondere sempre di essere all'altezza delle aspettative degli studenti toscani. La Toscana è una regione dove tutti coloro che hanno diritto ricevono una borsa di studio ed è molto importante mantenere alta questa prestazione e essere all'altezza delle prestazioni dei giovani. Per quanto riguarda le attività di DSU continuiamo purtroppo ad avere ancora gli stessi problemi che ci hanno accompagnato prima della pandemia per quanto riguarda gli alloggi universitari e le mense. Quindi continuiamo a dire che ci sono ancora molti miglioramenti da fare e si procede ancora però nella stessa direzione. Ci sono stati dei miglioramenti ma non sufficienti quindi anche lì dovremo di nuovo, penso, rivalutare quella che è l'attività del DSU soprattutto perché tutti quegli studenti che restano scoperti dai contributi per quanto riguarda l'alloggio che è uno dei passaggi più onerosi. Abbiamo votato contro. I motivi sono diversi. Nonostante sia un bilancio chiuso in positivo non ci è sembrato che ci siano state questioni diciamo... È risultato un positivo per varie questioni più che altro per la questione Covid che ha portato diciamo minori ragazzi ad alloggiare minori ragazzi a mangiare nelle mense universitarie di conseguenza ci sono stati meno spese per tutte queste questioni nello stesso tempo c'è stato un aumento anche del costo delle pulizie non proprio che quadra perché sì è vero che si è dovuto far fronte all'igienizzazione di tante parti in comune dei ragazzi eccetera però erano molto meno gli alloggi da sanificare comunque diciamo che può essere comprensibile continuano ad esserci problematiche così dicono gli studenti per varie questioni all'interno delle strutture e più che altro loro rivendicano sempre la disparità di trattamento tra le varie sedi abbiamo visto un commissione che probabilmente si andrà verso una ristrutturazione della mensa di Siena che è sempre stata quella diciamo che ha creato problematiche perché era esternalizzata e quindi forse quel problema verrà risolto ma non sappiamo quando Si svolgerà dal 5 al 21 novembre il Foiano Book Festival la manifestazione letteraria che si svolge a Foiano della Chiana organizzata dal comune con il patrocinio della regione toscana è un momento per ripartire per tornare a guardarci negli occhi per far battere i nostri cuori perché ci è mancata tanta la possibilità di andare a una presentazione di un libro ad un evento in teatro consentitemi di ringraziare la presidente De Robertis Andrea Vignini Anna Cherubini per aver voluto portare qui oggi insieme a Jacopo Franci la possibilità di raccontare la qualità l'eccellenza che nasce sui nostri territori un programma di altissimo livello un programma da vivere ogni giorno in maniera tale da cercare di ridare ancora sui nostri territori la speranza vera che si possa ripartire ponendo i cittadini, la cultura al centro del dibattito che noi vogliamo portare avanti io ho sempre detto che questo luogo il Consiglio regionale è un luogo che deve dare voce a quei territori che hanno grande capacità di produzione culturale ma che non hanno la quantità di presenze come le grandi città della Toscana l'odore di un libro a me attira sempre quindi lo spazio che il Consiglio regionale dà a questa iniziativa è proprio di condividere la promozione di uno strumento la lettura di una passione la lettura che deve anche attraverso i bambini attraverso queste iniziative tornare a essere molto di moda ritengo che sia molto utile sia molto importante in questo momento in cui come dicevamo la comunicazione è così veloce che si sta un po' perdendo il gusto della lettura della scrittura anche e anche i tempi lenti della lettura secondo me è importante recuperarli in questo momento perché appunto con i social, i TikTok insomma questo tipo di comunicazione soprattutto dei ragazzi e io sono molto contenta di presentare scrittori importanti come Daniele Mencarelli come Elisa Ruotolo, Luca Bianchini e poi altri che saranno nel cartellone e che ci dividiamo insieme ad Andrea e ad altre persone insomma che dialogheranno con loro e non so mi sembra un'occasione sono molto contenta che ci sia stata la riapertura perché dopo lo scorso anno insomma è faticoso aver modo di dialogare di libri, sui libri attraverso gli scrittori mi sembra già una grande riapertura ecco quest'anno è il secondo la seconda edizione che facciamo del Book Festival versione invernale e c'è un salto di qualità importante abbiamo due premi strega che vengono a Fogliano per la prima volta Edoardo Albinati e Daniele Mencarelli abbiamo il giornalista sportivo Bartoletti abbiamo Elisa Ruotolo, Chiara Moscardelli, Luca Bianchini tanti tanti personaggi importanti Serena Dandini quindi una parata di autori importanti che a Fogliano non vedevamo da un pezzo quindi siamo estremamente felici In conclusione vi parliamo di un nuovo portale per il Consiglio regionale un portale alla portata del cittadino è stato messo in rete il sito www.inconsiglio.it che si affianca all'indirizzo istituzionale che già conosciamo www.consiglio.regione.toscana.it sul nuovo sito potete trovare tutte le informazioni sui lavori del Consiglio regionale con i rimandi al sito della Giunta alle agenzie di stampa e nella sezione Consiglio TV potete seguire in diretta o rivedere ogni seduta d'aula assieme ai vari servizi giornalistici confezionati dall'ottimo ufficio stampa del Consiglio stesso nella sezione speciali Consiglio delle TV della Toscana potete rivedere anche questo approfondimento settimanale cliccando nella sezione TVR Teleitalia potrete vedere tutte le puntate di Dentro il Consiglio e quindi a questo punto da questo appuntamento vi ricorderò anche il nuovo sito in conclusione ovvero www.inconsiglio.it grazie per essere stati con noi e vi aspetto tra sette giorni e sempre qua Dentro il Consiglio www.inconsiglio.it